E' terminato il progetto denominato Liberi da, Liberi di, con un incontro che si è svolto alla Scuola Giovanni Verga, diretta da Viviana Aldisio alla presenza del dirigente Rosalba Marchisciana, capofila del progetto, con gli istituti Lombardo Radice e Albani Roccella. Obiettivo del corso è stato informare e formare gli studenti sui fattori a rischio legati all'uso di alcol, droghe, fumo, giochi d'azzardo e ogni altro tipo di dipendenza, favorendo la scelta di stili di vita positivi, seguendo l'esempio di un pari secondo il metodo educativo della Peer Education. Preside, scuole in rete per continuare a dialogare con i ragazzi, affinché questo dialogo sia sempre continuo, ma soprattutto produttivo di effetti, a breve e lungo termine. In questo caso parliamo di dipendenze ed è molto difficile parlarne, soprattutto con la famiglia. Assolutamente sì, motivo per cui la modalità con cui il progetto si è sviluppato è sicuramente la modalità migliore. Formare i ragazzi e renderli attori i protagonisti della loro formazione. Il metodo Frappari è il metodo che meglio li coinvolge e li responsabilizza rispetto alle conoscenze e quindi alle competenze che acquisiscono a fine progetto. Mi sono rivolta ai ragazzi definendoli sentinelle di quelli che sono i valori della buona condotta ed educazione che noi ci auguriamo che loro portino avanti nella vita per sempre. Liberi dalle dipendenze non solo oggi, ragazzi indipendenti e curati, questo è il ruolo migliore che la scuola debba sicuramente svolgere per una sana crescita. Quali sono i principali fattori di rischio che possono indurre soggetti anche giovanissimi a essere dipendenti da qualunque cosa? Sono delle problematiche ovviamente multifattoriali, quindi non c'è un solo fattore. I fattori sono tanti, noi abbiamo nella società fattori protettivi e fattori invece predittivi di patologia. Quindi quali sono i fattori protettivi, ad esempio avere una famiglia sana che funziona. Adesso avere una famiglia sana che funziona non sempre è dettata dall'apparenza, ma poi nella sostanza di capire le relazioni intrafamiliari. Il quartiere in cui vive un ragazzino è un quartiere dove ci sono delle pratiche oppure no. Anche il fatto di frequentare la parrocchia, frequentare altri gruppi sani, quali gli scout, sono fattori protettivi. I fattori sono tantissimi. Liberi di, liberi da, da ogni forma di dipendenza. E oggi le dinamiche relazionali che determinano dipendenza sono diverse. Quindi si va oltre la dipendenza da sostanze stupefacenti. Ci sono dinamiche molto più moderne che riguardano la dipendenza dalle tecnologie, la dipendenza dal gioco d'azzardo. Sono questi i temi che i ragazzi hanno affrontato ed è stato bello avere messo insieme ragazzi di scuole differenti che appartengono a due quartieri differenti. È stato un modo per capire le dinamiche sociali e anche antropologiche che riguardano la nostra città. È un modo per rendere i ragazzi consapevoli di quei comportamenti che a volte vivono in modo superficiale.